Aprire al pubblico un depuratore non è una cosa che avviene tutti i giorni. Non stiamo parlando di una fattoria didattica, ma di un complesso impianto dove la presenza di personale non autorizzato e non tecnico non è contemplata. Pertanto lo sforzo compiuto da ASET per ospitare alcune scolaresche delle scuole medie ed elementari fanesi nell'impianto di Ponte Metauro non è stato di poco conto, ma il management dell'azienda ha capito che conoscere è capire e quindi se questi bambini e bambine fanesi fanno il bagno in acque pulite e se fanno da anni conquista la bandiera blu, lo si deve anche a questo pionieristico impianto di depurazione degli anni 70, quando ancora una coscienza ecologista ed ambientalista non era nel DNA di molte città italiane. Questa volontà è stata portata avanti, c'è da dire in maniera pionieristica all'inizio, ma con regolarità e con coesione da tutte, sia dalle parti tecniche che dalle parti politici che si sono succedute nell'arco degli anni, sia come gestione del Comune di Fano che come gestione dell'ASE, del Comune dal punto di vista tecnico e poi dell'ASE dal punto di vista tecnico. Dirò in seguito che probabilmente inizieremo questo rapporto con la cittadinanza anche in primavera, abbiamo un'altra struttura che secondo noi è un vero e proprio fiore all'occhiello che è la discarica di Monteschiantello, quindi lavoreremo già da subito per cercare di aprire alla cittadinanza e quindi anche a coloro che vogliono visitare questi impianti. L'evento è stato voluto e creato anche e soprattutto per rendere un doveroso omaggio a chi ha vissuto lavorativamente 40 anni della propria vita in questo posto, vedendolo praticamente nascere e che ora, fra pochi giorni, concluderà la sua esperienza lasciandoci però un pezzetto di cuore. Sono il capo impianto fino ad ancora qualche altro giorno perché chiudo la mia carriera lavorativa qui a Fano dopo essere stato in questo impianto che è stata per me la seconda casa dopo 38 anni quasi, sono passati 38 anni quasi tutti qui dentro e sono diventato forse un pochino fanese perché io vivo da Mondavio, la mia famiglia è di Mondavio e quindi la realtà è questa. Ma per chi lascia c'è chi inizia la sua avventura lavorativa dopo un periodo di affiancamento con i vecchi leoni rubando esperienza e piccoli segreti che non si imparano nelle università ma sul campo per gestire qualcosa che non è un monolita immobile ma un impianto vivo e dinamico. L'azienda si è organizzata, mi ha dato la possibilità di fare un periodo di affiancamento e quindi mi sento pronta per affrontare questa sfida. Oggi è una giornata aperta, avete preso un po' così anche contatto con i ragazzi, con la città, un bel momento tutto sommato. Assolutamente sì perché approfittando del quarantennale dalla costruzione dell'impianto abbiamo pensato di far conoscere questa realtà anche alle scuole e ai bambini, interessarli dell'argomento della depurazione, quindi personalmente è stato molto interessante e divertente anche per me.